ecco è finita adesso tempo ecco vittoria della Virtus che sta affrontando qua al nuovo di B Olimpia ci è voluto che dicevo io il tempo 2 a 1 risultato finale in questo big match tra l'Ortona Calcio e la Virtus Castelfrentano ecco i nostri ragazzi gladiatori proprio forza Lola ecco c'è il saluto al pubblico mettetevi pure combattatevi su bravi ragazzi bravi dai terminato l'incontro anche Acutu sorridente prendete eh ecco la forza i tifosi i tifosi gli Ultras bravo Trano bravo Manuel 2 a 1 risultato finale vi saluto dal nuovo di via Olimpia di Castelfrentano con questa bella vittoria in questo big match tra la Virtus Castelfrentano e l'Ortona Calcio ci siamo ripresi quello che è che abbiamo fatto in campo contro il Migliano ecco il nostro Richiuti oh bravi si si recuperiamo i palloni mister vincitore ci siamo ripresi quello che ci hanno tolto subito proprio